Io a dire la verità sono già ansioso di mio, in questo periodo, in queste tre settimane sono stato abbastanza sui carboni ardenti e mancava solo l'attore della fidivisione che sarebbe stata fatta, ecco, quindi adesso voglio dire sono sereno e contento posso andare alla cena dei Lions con tranquillità Ma si può avere, come dicevo il budget, si può avere un'idea un po' della cifra è più verso i 4 o più verso i 3? Più verso i 4 o più verso i 3? Non lo so, potrebbe essere più verso i 5 È un budget importante, ma non solo perché è destinato alla prima squadra È un budget importante perché noi siamo una società che non è un carrozzone perché non abbiamo tanta gente in più, ma è una società che ha dei costi Il nostro settore giovanile, tanto per dire una cifra, costa più di un milione di euro quindi se male le altre società spendono 200.000 per il settore giovanile quindi anche questa, la gestione degli impianti sportivi la gestione degli impianti sportivi ha una sua importanza, un suo peso quindi voglio dire non è solo il costo della gestione della prima squadra ecco per cui è un budget importante per cercare di fare bene perché Padova merita di ritornare il prima possibile nella categoria consona Bene, oggi l'ultima cosa, è stato chiuso anche il bilancio di quest'anno o verrà fatto in un secondo momento? No, il bilancio nostro di questa stagione sarà chiuso la prima settimana di luglio l'altro passaggio è chiusura del bilancio verso l'8 e 10 di luglio dopodiché a questo punto approvazione, approvazione del bilancio e l'ingresso dei nuovi soci che dovrebbe essere verso il 14 o 15 di luglio C'erano presenti oggi comunque? Sì, certamente sì Ok, va bene?